Lenny? Eccolo! L'uomo affacciato al balcone, l'uomo fuori come un balcone. Ne ho parlato tanto, ma nulla regge il confronto con la sua rivelazione. Ne ho parlato, sì, ma non come ne parlerò adesso. E in futuro ne parlerò. Ancora, ma meglio di come ne sto per parlare, perché non è mai stato un gioco di limiti tra Lenny e il possibile. Il gioco di Lorenzo era quello di allargare non il confine, bensì il possibile. Roba da far impazzire i fan via ai confini della realtà. Lorenzo, alias Larry, alias Lenny. Grazie. Grazie.